che anche con dei tassi meravigliosi ha una borsa giusta bellissima appena arrivata con un cappello che si abbina benissimo all'outfit e un meraviglioso costume blu e sotto naturalmente il leopardato immaculato fate un grandissimo applauso a tutti gli outfit che Cristina e a queste meravigliose ragazze perché concludiamo ora questa prima parte con Giulia perché al suo outfit ha aggiunto un pareo molto spizioso che riprende benissimo il suo costume con i penicotti di rosa per fare un TikTok in spiaggia passate prima da Passione di Moda e poi fate un TikTok ed ecco le nostre ragazze un grande applauso a Cristina naturalmente di Passione di Moda Giulia, Anna, Irene, Serena, Rianna, Ilaria, Lorena, Sonia, Rosaria e Jasmine una panoramica meravigliosa anche io naturalmente indosso Passione di Moda per un'estate unica quella estate 2020 a tutti i metri eccoci qua Cristina viene qui e intanto t'ho visto quindi Cristina di Passione di Moda è tutto lei la vedrete meglio dopo ma mi sembrava giusto perché l'avete vista l'avete applaudita prima Quindi come no Queste sono le nostre bellezze Naturalmente di questa estate 2020 Vi faccio naturalmente ora Dire i nomi così li conoscete Giulia Arianna Serena Lorena Anna Ilaria Sonia Rosaria Eccole qua Le bellezze 2020 Summer Edition Eccolo qua Allora Aspettate perché se così le vedete E sono bellissime Naturalmente Ristina E passione di moda Anna